Due meloni un euro? Due meloni un euro? Due meloni un euro? Due meloni un euro? Mamma sono turbato C'è siccissimo Sta girando un fake C'è un virus No no non è un virus Trojan No 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 Mamma non ho accorre che ti arrabbi Trojan è un virus Trojan è un virus Si chiama Trojan Non volevo assolutamente dirlo Un fake è una bufala La mozzarella? No la mozzarella mamma Stanno girando notizie Sul mio conto sbagliate Cioè praticamente dici che si bel fa Dici che ti tiene un post fis Ma no mamma Scusa quando imparerai Ad usare il mio background Sarà sempre troppo tardi mamma C'è il mio background? C'è cos'è il background? Spiegaci Cerca su facebook Vai sulla pagina background E vedi che cosa vuol dire Non è normale Faccio vedere Dottore Malanzana? Si che ora appresti la manella Malanzana Cracca per 4 cattini Ci metti il riso dentro? No Madonna Con il cervello di 4 cattini Non ne metti niente Guarda che un riso Gli amici? Ma dove? Ma che mezza? Madonna Fritti Doppi Doppi E si Doppi E ora fai la lingua Scacchiata Ehi Fai con me Sparish 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 Sperimentando Quindi Se si sbrighi magari Scrivo Ecco Lunedì Facebook Di Facebook Martedì Instagram Mercoledì Twitter Twitter, giustamente, Facebook, Instagram, Twitter. Giovedì, giovedì, giovedì c'è il tennis, e quindi per forza, più attività sociale di quella, insomma. Giovedì, tennis. Venerdì, venerdì c'è l'happy hour, quindi venerdì happy hour, happy hour. Sabato e domenica non si lavora, perché, sa, sono sacri per la famiglia, insomma. Quindi sabato e domenica, niente, non si lavora. Va bene. Qua 150 euro. Mi deve fare le fatture. Mi fa la fattura. Mi deve fare la fattura. Mi faccio la... No, non quella fattura, la fattura, parlo con la segretaria? Come si chiama? Ciao, ciao, ciao. Va bene. Grazie, Maga Ito. Alla prossima. Buongiorno. Salve. Scusami, voi cerchete un ragazzo per con sé dei fiori? No, perché ho letto fuori il cartello con la scritta, cerchete il guard zone, che poi poi si dice, ecco, è brutto il guard zone. E ci pare di fece. Voi vendete i fiori qua? E ne, cioè che sei apprendista a fioraio. Così. Vabbè, giustamente, io dovrei fare delle consegne. Vabbè, a me piacciono i fiori. C'è anche che mi piacciono i fiori. Perché? Scusami, ci domandi. C'è un servizio finita. No, adesso, ora vuoi chiedere pure se voglio fare il fioraio. Che t'è da con il giamato? Eh? Sono autoimmune. Autoimmune. Fucurale. Mia madre. No, no. Tutti questi vaccinati li sono fatti tu. Tranquillo, tranquillo. Eh? Linguaggio dei fiori. E ci muo parlo nel fiori. C'è? E ci dice? Che spiace? Aspire. Mamma. Lo zio. Uschai! Dici qualcosa, che non parlo più. Ma ci domandi. Vabbè, tu stai spostato, vabbè, stai confraccato a me. Sì, da me. Sì, da me. Stai confraccato a me. Vatti andate, va a fare gare. Vatti. Vatti, uschai! Vatti. Beh, suffi. Potete spiegare a casa. Beh, no, ma, Jack. Ah, ma. La. Quanti avete? Poppa, snoppa. Mamma. Ma lo fiorpa. Di confraccato a me. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS